Ah, tu hai avuto sempre un pubblico? Eh, è dal liceo che non l'ho più. Dal liceo? Dal liceo! Mio Dio, come vola il tempo quando si è felici. E all'improvviso, senza accorgertene, già la vita avanza a passi da giganti. No. Bene. Ti ha detto, Brooke, che forse cambiamo casa dopo sposati? Forse, dici? Lei me l'ha dato come un fatto scontato. Secondo te facciamo bene. E secondo te fate bene? È la cosa migliore, non credi? È stato un anno duro per te, vero? Tu dici, mamma. Davvero? E poi, vedo ya. Ciao.